Grandi lavori in piazza Vittorio Emanuele, fervono i preparativi per la festa della Madonna della Maglia. Una illuminazione così non si era mai vista qui a Monopoli. La ditta giunta appositamente dal Peniccio della Salentina sta realizzando questo tunnel incredibile che immaginiamo non appena sarà illuminato a sera. Sarà davvero un grande spettacolo. Addirittura sotto le luminarie un soffitto di luci incredibile. Aspettiamo quindi l'arrivo della Madonna della Maglia, la festa del 14 di agosto e ovviamente dello spettacolo che ne consegue il 16, musica in piazza, proprio qua con Albano. Albano Carrisi che terrà un concerto a Monopoli.